Io se dovessi riassumere i 30 anni, li riassumerei con l'espressione ansia da confusione, veramente, ansia da confusione. Sì, tu improvvisamente, cioè facevi una vita normale quando eri giovane, e improvvisamente cominci a vivere con la sindrome del macchinista di Trenitalia, cioè stai in ritardo su tutto, stai in ritardo su tutto. Appena compi i 30 anni, tutte le frasi che ti dicono cominciano con la parola ancora, tutte. Ancora se sei sposato, ancora non vivi, se sei andato a vivere da solo, ancora non hai fatto un fio, ancora non hai fatto il secondo fio, ancora non hai fatto il terzo fio, e ancora non sei diventato ricco con il network marketing, ancora non hai fatto sesso attaccato al lampadario mentre ti frustano con mocio pileta. Ma quando ne dovevo fare tutte queste cose? Avvertitemi prima, fino all'altro ieri c'era tutta la vita davanti, tutta la vita davanti, lasciatemi un post-it sul frigorifero, ma quando ne dovevo fare tutte queste cose? Non ti dice niente nessuno, è una cosa incredibile, cioè tu non fai in tempo a soffiare sulla candelina di 30 anni, proprio non fai in tempo, appena fai così, mentre stanno tutti lì a festa, cioè soffi sulla candelina di 30 anni, tu madre si toglie la maschera e sotto c'è il commercialista. Scitofoni a tu padre, gli dice so io, tu padre ti risponde io chi e non te apre, e tu nonna smette dei tatti di 50 euro per gelato, proprio così, all'improvviso. Grazie. 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 Grazie.